Ciao cari amici, come sapete di recente sono venuti gli altri rappresentanti del regime anglosassone sul territorio dell'Ucraina, hanno partecipato a una serie di incontri, hanno fatto anche una conferenza stampa insieme con il scaduto presidente ucraino ex comico Volodymyr Zelensky. In pratica si è parlato di possibilità di permettere all'Ucraina di colpire il territorio della federazione russa con le armi di precisione della Nato, quindi con i missili di lunga gettata. Innanzitutto perché è successa questa cosa? Perché improvvisamente gli anglosassoni hanno deciso di affrontare questa tematica? Per essere diciamo chiari, trasparenti e rispondendo a questa domanda in maniera sintetica, si può usare solo una affermazione, l'Ucraina sta perdendo. Questo è il motivo principale per cui adesso gli anglosassoni stanno tirando il tema, stanno sollevando questo tema nei discorsi del mainstream, perché ovviamente, cari amici, si tratta, come ho già spiegato prima in diversi video, si tratta semplicemente di un'astuta operazione di comunicazione morbida riguardo a una decisione molto drastica, drammatica, che potrebbe trascinare il mondo intero nella Terza Guerra Mondiale. Per adesso non siamo ancora effettivamente, diciamo, ad un passo dalla Terza Guerra Mondiale, ma ci stiamo avvicinando abbastanza. Questa è una situazione già molto preoccupante e drammatica. E ovviamente, come ho già spiegato prima, l'Occidente collettivo non può, semplicemente, con allegria e serenità, spiegare alle proprie masse, ai cittadini occidentali, che ecco ragazzi, la festa è finita, noi abbiamo deciso di fare la Terza Guerra Mondiale, perché noi non abbiamo creato un'alternativa al nostro sistema predatorio, nostra economia sta crollando, il nostro stesso senso di propulsione geopolitica sta crollando, noi non siamo in grado di fare nient'altro che spingere il mondo verso la guerra. Loro non possono dirlo così, perché ovviamente le masse non appoggerebbero una simile ritorica. Per questo motivo loro creano questa specie di piano di Overton, dove in pratica passo dopo passo, porta dopo porta, aprono le possibilità per piggioramento della situazione. Ma questi piggioramenti sono talmente, diciamo, piccoli e sono talmente ben manipolati dal sistema di propaganda occidentale, che ovviamente le masse, la gran parte delle masse, non si accorge, non è ancora capito, che si sta creando una situazione molto, molto drammatica. e quindi questa gente in pratica ha bisogno di creare le situazioni nei quali far credere alle masse che si sta discutendo di una possibilità, mentre ormai si sta parlando chiaramente, di una situazione già decisa, della quale io ho già parlato prima, prima vi ho detto che arriverà il momento e l'Occidente, se non riuscirà a vincere contro la Russia sul campo di battaglia in Ucraina, l'Occidente inizierà a utilizzare, diciamo, le loro armi per colpire direttamente il territorio dell'Ucraina. Perché loro fanno? Perché devono farlo? Perché chiaramente, cari amici, non è possibile vincere contro la Russia sul campo di battaglia. Questa è una cosa che gli occidentali, a mio avviso, un po' lo capiscono, anche gli anglosassoni lo comprendono. Quello che, diciamo, bisogna fare nella loro visione è continuare a staccare l'Europa occidentale dalla Russia. La Russia è un paese che rischia di trascinare l'Europa occidentale nel progetto del mondo multipolare. Il mondo multipolare non predispone l'esistenza di nessuna egemonia. Nessuno nel mondo multipolare diciamo, governa sugli altri e soprattutto governa grazie a minacce militari come succede nel mondo anglosassone. Loro sono abituati di controllare tutti, manipolare tutti attraverso le guerre dirette, guerre per procura, attraverso il terrorismo, attraverso spionaggio, attraverso le organizzazioni di sabotaggio e così via. Quindi, speculazione politica, speculazione finanziaria, speculazione bellica, tutto questo fa parte di dinamica anglosassone. Nel mondo multipolare per questo non c'è spazio e quindi loro hanno bisogno per forza continuare a generare i problemi tra la Russia e l'Europa occidentale per evitare che l'ultima diventa parte del mondo multipolare. nel caso se nel caso se loro non riusciranno a indebolire la Russia loro sono pronti e lo dimostrano di bruciare nel fuoco nucleare nel fuoco di una guerra apocalittica il territorio dell'Unione Europea dei paesi dove adesso esiste ancora questa entità che si chiama Unione Europea non si sa quanto durerà ancora. Comunque l'Europa occidentale rischia sicuramente molto in questa situazione per placare diciamo la sensazione di questo rischio nelle masse le anglosassoni cercano di fare questa narrazione questa narrativa usando ovviamente quella che è la loro bravura nel gestire il mainstream e gestire il loro fantoccio ucraino. Loro dicono va bene noi siamo in una situazione dove dobbiamo sostenere gli ucraini quindi non siamo noi che facciamo la guerra sono gli ucraini che fanno la guerra contro la Russia noi dobbiamo aiutare gli ucraini le abbiamo dato i soldi le abbiamo dato le attrezzature le abbiamo dato le armi quindi abbiamo iniziato con dare agli ucraini prima i sistemi di antiaeree e sistemi da difesa poi le abbiamo dato i missili anche d'attacco poi le abbiamo dato i carri armati le abbiamo dato i mezzi corazzati abbiamo mandato i nostri specialisti militari i mezzi di comunicazione abbiamo condiviso con l'Ucraina i dati della nostra intelligence dei nostri satelliti noi forniamo all'Ucraina tutti i tipi di sostegno anche economico per fare questa guerra e ovviamente adesso arriva il tempo di prendere una decisione per colpire il territorio della federazione russa su questo si è parlato io ho fatto già un video quindi questa non è una novità la cosa ovviamente che molti si domandano qual è la reazione dei russi qual è la reazione di Putin in questi giorni molti dicono è Putin è debole Putin assolutamente deve colpire deve diciamo far vedere che i russi possono colpire possono usare le armi e così via qua carri amici bisogna fare una serie di ragionamenti logici io vi invito sempre di essere calmi freddi nella vostra analisi se voi non volete scadere nelle esaltazioni e ovviamente esaltazioni di solito sempre portano fuori da un percorso logico oggettivo e quindi quando si perde l'obiettività se voi volete essere obiettivi ma poi perdete questa obiettività voi siete facilmente manipolabili da diversi tipi di narrazione speculativa per questo motivo vi dico fermatevi fate attenzione Putin non deve assolutamente in questa situazione colpire gli ucraini o colpire l'occidente con le armi atomiche come molti dicono perché è proprio quello che vogliono gli anglosassoni Putin sta giocando una complicatissima partita di scacchi quando si gioca la partita di scacchi cari amici soprattutto tutto contro un nemico indisciplinato contro un nemico così imprevedibile come gli anglosassoni che possono fare anche che possono barare possono cambiare le regole del gioco bisogna avere nervi saldi bisogna fare molta attenzione e soprattutto non prendere le decisioni avventate Putin ha dimostrato in tutto questo tempo di saper fare questa cosa innanzitutto dall'inizio lui ha cercato evitare questo questo degrado della situazione lui ha provato di fare diciamo gli accordi questi accordi sono stati sabotati poi lui è stato trascinato in questo conflitto praticamente per il collo dovuto entrare nel 2022 ma in differenza da quello che speravano gli occidentali Putin non ha dichiarato guerra lui ha dichiarato l'operazione militare speciale questo si vede anche dal carattere della tipologia dei colpi che i russi stanno inflingendo al regime ucraino sia nelle retrovie che in prima linea e questo è molto diverso da ciò che ad esempio nelle loro strategie di guerra fanno gli stessi anglosassoni se noi prendiamo qualsiasi guerra come l'esempio che hanno fatto gli americani ad esempio nel Medio Oriente e guardiamo quali sono le distruzioni che gli americani hanno fatto per dire in Iraq e ciò che ha fatto la Russia in Ucraina noi riusciamo a capire che in effetti quella era la guerra in Iraq c'era la guerra è stato distrutto devastato un popolo un territorio massacrati milioni di cittadini creati gruppi terroristici e situazione diciamo ha toccato veramente dei parametri che possono essere chiamati apocalittici mentre qua in Russia è stata presa una decisione di non fare lo stesso sul territorio dell'Ucraina quindi i russi quando sono partiti dalla Russia avevano già un piano preparato secondo il quale loro non avrebbero dovuto dare possibilità alla macchina propagandistica occidentale di accusare la Russia di fare una guerra estremamente devastante in effetti c'è un'operazione militare speciale Putin sta cercando di portare avanti questo comportamento proprio perché lui lo sa che il regime anglosassone non è eterno le loro risorse non sono eterne e prima o poi loro inizieranno a vascellare importante di non fare gli errori prima di questa situazione sarà difficile la guerra sarà lunga io vi ho detto che questa situazione non finirà molto in fretta quelli che speravano che finirà tutto in due mesi hanno sbagliato io all'epoca ho detto che non si tratterà assolutamente di un blitzkrieg stessi analisti russi che sono molto vicini a Putin persone che hanno fatto delle previsioni reali realistiche di diversi scenari di questa guerra tutti parlano di un conflitto che potrà andare avanti addirittura fino a 2035 conflitto dal punto di vista globale che non comprende solo la Russia comprende anche altri paesi che fanno parte del mondo multipolare perché la Russia qua in questo momento è solo la prima parte del mondo multipolare che gli anglosassoni sono in grado di colpire ma c'è la Cina che vuole essere colpita dagli anglosassoni gli anglosassoni vogliono colpirla indirettamente per adesso poi dopo lo vogliono colpire anche direttamente io vi ricordo ad esempio la notizia io l'ho pubblicato proprio oggi sul mio canale privato telegram i marines statunitensi la famosa famoso riparto speciale team 6 della marina militare statunitense loro stanno addestrando per le operazioni a Taiwan contro i cinesi quindi potete capire che aria tira in quel settore ovviamente cari amici noi siamo di fronte a un tentativo da parte degli anglosassoni di costringere i russi di sferrare il primo colpo perché loro vogliono che i russi sferassero il primo colpo loro lo sanno che colpendo dall'Ucraina la Russia con missili i russi dovranno rispondere con le armi di di stessa tipologia e probabilmente gli occidentali sperano che i russi risponderanno con armi nucleari tattiche sparando con le armi nucleari tattiche questo è già una grave escalation quindi si può innescare un vero e proprio conflitto nucleare e questo ciò che gli inglesi le anglosassoni gli americani e gli inglesi vorrebbero interessante qual è la risposta di Putin Putin oggi ha fatto un intervento importante lui ha parlato della situazione che si è creata in sul territorio dell'Ucraina e anche ha parlato di questa minaccia dell'utilizzo delle armi occidentali sul territorio della Russia e delle armi missilistiche di lungo raggio io vi leggo una parte della diciamo la parte più importante di ciò che lui ha detto e poi cercherò di fare un breve riassunto innanzitutto si è trattato di un contesto in cui Putin è stato intervistato da un giornalista russo di canale Russia e questo giornalista gli ha chiesto negli ultimi giorni nel Regno Unito e nelle Stati Uniti abbiamo visto e sentito dire ad alto livello che il regime di Kiev sarà in grado di colpire il territorio russo con armi occidentali a lungo raggio a quanto pare questa decisione sta per essere presa o è già stata presa e queste sono cose straordinarie ovviamente vorrei chiederle di commentare quanto sta accadendo e Putin risponde al giornalista dicendo c'è un tentativo di sostituire i concetti perché non stiamo parlando di autorizzare o vietare al regime di Kiev di colpire il territorio russo già oggi il regime di Kiev colpisce con i droni e con altri mezzi il territorio russo ma quando si tratta di utilizzare armi di precisione a lungo raggio di fabbricazione occidentale la storia diventa completamente diversa il fatto che e che l'ho già detto e tutti gli esperti lo confermano sia qui in Russia che in occidente l'esercito ucraino non è in grado di colpire con moderni sistemi di precisione a lungo raggio di fabbricazione occidentale non possono farlo questo è possibile solo utilizzando l'intelligence dei satelliti di cui l'Ucraina non dispone questi dati provengono solo dai satelliti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti in generale dai satelliti della Nato questa è la prima cosa la seconda molto importante forse la più importante è che solo i militari dei paesi della Nato possono effettuare missioni di volo su questi sistemi missilistici i militari ucraini non possono farlo non si tratta quindi di permettere al regime ucraino di colpire o meno la Russia con queste armi stiamo parlando di decidere se i paesi della Nato siano o meno direttamente coinvolti in un conflitto militare contro la Russia se questa decisione verrà presa non si finicherà altro che la partecipazione diretta dei paesi della Nato degli Stati Uniti e dei paesi europei alla guerra in Ucraina contro la Russia questo è il loro coinvolgimento diretto e già questo ovviamente cambia in modo significativo l'essenza stessa la natura stessa del conflitto ciò significherà che i paesi della Nato gli Stati Uniti e i paesi europei sono in guerra con la Russia e se questo è il caso allora tenendo conto del cambiamento dell'essenza stessa di questo conflitto prenderemo decisioni appropriate in base alle minacce che si creeranno contro di noi questa cari amici è stata la diciamo più importante comunicazione che la Russia negli ultimi giorni ha mandato all'Occidente ci sono stati mandati tre comunicazioni importantissime in realtà sono stati molto di più di vari esponenti della Russia che sono espressi su questa tematica ma dal punto di vista ufficiale è molto importante la comunicazione svolta da alti rappresentanti il primo rappresentante è stato qualche giorno fa il vice ministro degli esteri russo che ha detto semplicemente che ciò che stanno facendo Stati Uniti d'America la Gran Bretagna è una provocazione quindi la Russia nel caso se si troverà costretta a difendere i propri interessi farà ovviamente tutto ciò che è necessario per difendere la propria sicurezza sottolineo che queste comunicazioni sono state avvenute subito dopo che la Russia ha cambiato la propria strategia nucleare questa è una cosa molto importante cioè la strategia nucleare Russia recentemente è stata riaggiornata in base alle situazioni in base alle minacce che arrivano adesso contro la Russia questo vuol dire che l'utilizzo di qualsiasi missile di lunga gettata con o senza testata nucleare viene considerato dalla Russia come la minaccia diretta contro il sistema nucleare russo perché è chiaro che gli ucraini come hanno già fatto utilizzando i droni cercheranno di colpire con questi sistemi il complesso industriale energetico russo che consiste anche nei centrali nucleari centrale nucleare colpita e un precedente nucleare al quale secondo il programma di difesa di qualsiasi stato si risponde utilizzando le armi nucleari chiaro che queste situazioni non sono generate e create degli ucraini gli ucraini non sono neanche esecutori finali qua tutto fa l'occidente perché come ha diciamo spiegato Putin nel suo discorso solo specialisti occidentali sono in grado di gestire i missili di lunga gettata che saranno lanciati dal territorio di Ucraina sul territorio della federazione russa quindi primo messaggio importante è stato dato da vice ministro degli esteri poi ministro degli esteri Lavrov ha fatto una dichiarazione durante il suo discorso alle Nazioni Unite dove lui ha spiegato che in questa situazione si rischia il conflitto nucleare si rischia un conflitto che coinvolgerà direttamente l'occidente questo è stato il secondo avvertimento importante e oggi Putin ha dato terzo ultimo e più potente messaggio all'occidente e ovviamente qua noi dobbiamo ricordare un'altra cosa cari amici questa questa è una situazione che sicuramente può precipitare può peggiorare solo se l'occidente continuerà a seguire questa linea autodistruttiva linea di provocazione nei confronti della Russia se l'occidente non smette di usare l'Ucraina negli interessi propri come un vero e proprio avamposto contro la Russia noi vedremo precipitare questa situazione man mano verso una anche probabile guerra contro la Russia e l'Europa occidentale Stati Uniti d'America in tutto questo cari amici comunque rimarranno fuori perché rimarranno fuori perché secondo la dottrina militare russa i russi possono utilizzare le armi nucleari tattiche di diverso tipo con diversi sistemi di portata contro i territori dell'Europa ma loro non possono utilizzare le armi nucleari tattiche contro gli Stati Uniti d'America perché gli Stati Uniti d'America si trovano lontano e l'unico modo per colpire gli Stati Uniti d'America è utilizzare le armi nucleari strategiche questa cari amici è già diciamo una diversa situazione dal punto di vista di strategia e di piano di utilizzo delle armi nucleari è una decisione molto molto grave io non credo che i russi arriveranno a tanto però ciò che stanno facendo le anglosassoni e suscitare una situazione del genere perché loro sono sicuri di essere riparati dietro l'oceano e loro sono pronti in effetti a sacrificare l'intera l'Europa occidentale pur di evitare che il mondo moltipolare possa includere anche i paesi dell'Europa occidentale che la Russia con paesi europei dell'Europa occidentale possano creare un unico polo economico industriale e questo in grande linea cari amici il senso di ciò che sta succedendo comunque le dichiarazioni di Putin che vi ho citato sono molto importanti ripeto si tratta di proprio un avvertimento ormai più che esplicito e io credo che adesso gli occidentali comunque utilizzeranno certi tipi di armi contro la Russia noi vedremo come gli americani ad esempio utilizzeranno alcuni loro missili balistici anche gli europei utilizzeranno i loro missili come ad esempio Storm Shadow contro gli obiettivi sul territorio della federazione russa federazione russa sicuramente risponderà lanciando sul territorio dell'Ucraina sempre attacchi missilistici probabilmente inizieranno a colpire anche le zone di prese di decisioni anche le zone dove si trova il comando perché tanto i russi lo sanno tutto e se prima non lo facevano è perché dal punto di vista di una sorta di programma di decisioni era considerato diciamo non non produttivo colpire questi punti con intensificarsi della situazione può darsi che i russi possano riguardare questa decisione e quindi probabilmente noi vedremo anche i missili russi precipitare sulle zone di rappresentanza del potere sulle zone di presenza anche dei politici occidentali e così via che si trovano sull'Ucraina ovviamente questa cari amici è l'ennesima escalation che viene sollevata e voluta dalle occidentali russi cercano di evitarla questa è in grande linea è la situazione nella quale noi ci troviamo attualmente amici vi invito come sempre di informarvi in modo obiettivo di evitare la propaganda occidentale soprattutto quella anglosassone sul mio canale privato telegram io cerco di condividere sempre tutto quello che di solito viene nascosto strumentalizzato oppure censurato dal nostro mainstream il link per abbonamento al mio canale privato telegram si trova nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su youtube come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione vi ringrazio per le vostre donazioni per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su questa piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene